Musica Agente all'inseguimento del fuggitivo avvistato. L'unità è in codice 3 e richiede rinforzi. Attenzione comando, sono dietro a un sospetto 1044. Centrale a tutte le unità. Abbiamo il posto di inseguimento del fuggitivo. Convergete sul posto a supporto dell'unità. All'inseguimento di fuggitivi in una gara clandestina. Coyote pass. Passo. Ricevuto. Fermare la gara prima che si confida. Centrale a tutte le unità. Il codice 3 è in visita. Minizzo all'inseguimento. Sto piazzando strisce e chiudate. Strisce e chiudate e piazzate. Attenzione a una gomma a terra. Ho colpito l'impianto elettrico del sospetto. Perdi velocità. Centro di fredda. Questo dovrebbe rallentare. Attenzione le sue gomme sono andate. Un colpo riuscito. Versaglio danneggiato. Provo a fermare. Striscia chiodata. Attenzione agente in codice 3 su presunto in cittivo. Unità e zona. Fornire supporto. Attenzione le sue gomme sono a terra. Cerco di rallentarlo. Attenzione a una gomma a terra. Ho scovato il sospetto. L'inseguimento riprende. Sospetto avvizzato. Coordinate le unità verso la mia posizione. Abbiamo preso un fugitivo. Centrale attenzione. Abbiamo il sospetto in custodia. Ricevuto. Localizzate e arrestate i 10.44 rimasti in zona. Ho preso. Roma più energia. Terza velocità. A tutte le unità. Inseguimento in corso di un 10.41. L'agente chiede rinforzi. 10.44 sistemato. Con un po' di gioco di squadra. Centrale il sospetto in custodia. Altri bersagli a piedi liberosi. Eliminazione confermata e registrata. Mantenere l'inseguimento degli altri bersagli. 10.4 sull'arresto. Torniamo a inseguire gli altri sospetti. Domando. Ho riassistato il sospetto. Provo a candidare. Un agente all'inseguimento di un fugitivo. Tutte le unità. Rispondete. Polvito. Gara interrotta. Eseguito un altro arresto su un 10.44. Bel lavoro. A tutte le unità. Tornate di battuglia. Tutti i bersagli sono stati arrestati. Emesso mandato di cattura sul sospetto fuggitivo. Dettagli visibili sull'islet. Ad inseguimento del sospetto identificato. Dettagli visibili sull'islet. Comando. Ho preso. Centrale a tutte le unità. Abbiamo in corso un inseguimento di fugitivo. Convergete sul posto al supporto dell'unità. Alla calcagna del 10.44. Codice 3. Recebuto. Codice 3 autorizzato. Contatto con un fugitivo. L'ho colpito. Cerco di bloccarlo. Attenzione. Agente in codice 3. Soprattutto un fugitivo. Unità in zona. Sordire supporto. Agente all'inseguimento del fugitivo avvistato. L'unità è in codice 3. E richiede rinforzi. Attenzione centrale. Il bersaglio fermato è nel sistema. Bene. Tutte le unità. Tornate ai percorsi normali di battuglia. Un agente all'inseguimento di un fugitivo. Tutte le unità. Rispondete. Attenzione. Un'unità è all'inseguimento di un prodotto di agi 44. Agente in zona. Intervenite. A tutte le unità sul posto. Inseguo un veicolo in eccesso di velocità. Mi serve aiuto. Via libera al codice 3. Verranno segnate unità addizionali. Attenzione. Le sue gomme sono a terra. Siamo diretti verso l'osso. Attenzione. Il sospetto ha cambiato direzione. L'ho colpito. Centrale segnalazione. 10.44 fermato è in codice. Ricevuto. Dettagli del bersaglio in arrivo sullo schermo. Bel lavoro ragazzi. Allarme cessato. A tutte le unità. Inseguimento in corso di un 10.41. L'agente chiede rinforzi. Abbiamo in corso un inseguimento diffugitivo. Convergete sul posto a supporto dell'unità. A tutte le unità. Inseguimento in corso di un 10.41. L'agente chiede rinforzi. Provo a fermare. Trisce chiodate e piazzate. Sto per usare una striscia chiodata. 10.44. 10.44. Non è neutralizzato. Allarme rientrato. Attenzione. Il sospetto si è schiattato. Pilota in detenzione. Per usare una striscia chiamata. Di ero famosa. Per usare una striscia. Abia la stronza. Tur Москвi. Mortale in realizzazione. Insee. Per usare una striscia. Per usare una striscia. Spessore. Inadora aneja. La striscia. Mandato di cattura su veicolo sospetto. Invio informazioni in corso. Centrale il sospetto 1044 ha oltrepassato la mia posizione. Centrale in seguito 1041 presso l'aste mio reso. Contro con 1044. Andate all'inseguimento di un fugitivo. Tutte le unità, rispondete. Ho colpito l'impianto elettrico del sospetto. Verde velocità. Cerco di presa. Risciacchionata in arrivo. Andate all'inseguimento del veicolo sospetto. Richiesta assistenza. Cattura del bersaglio 1044 riuscita. Sospetto codice 3 in arresto. L'abbiamo beccato. Attenzione. Abbiamo il sospetto in custodia. Inseguimento terminato. Comando, non sono più all'inseguimento dei sospetti. Attenzione. Un'unità è all'inseguimento di un presunto 1044. Agenti in zona, intervenite. Sospetti coinvolti in una gara a Lagoon Trail. All'inseguimento. Roger. Arrestare tutti i 1044 durante la gara. Attenti, guida come un passo. Danni alla proprietà pubblica da parte dei fuggitivi. La gara è finita, centrale. Eliminazione riuscita. Arrestare 1044 rimanenti. Agente all'inseguimento del fuggitivo avvistato. L'unità è in codice 3 e richiede rinforzi. Attenzione. Agente in codice 3, spredotto il fuggitivo. Unità in zona. Fornire supporto. Agente all'inseguimento del fuggitivo avvistato. L'unità è in codice 3 e richiede rinforzi. Agente all'inseguimento del veicolo sospetto. Rinchiesta assistenza. Abbiamo mandato di cattura su un fuggitivo. A tutte le auto. Occhi aperti. L'unità è in codice 3 e spredotto. L'unità è in zona. Fornire supporto. Uno l'incontro 6 all'inseguimento. Ho scoperto il vito. Cerco di toccarlo. Lascio una striscia chiodata. Strisce chiodate e piattate. Il fuggitivo è fermato e arrestato. Bel lavoro su quel sospetto. Sospetto codice 3 arrestato. L'abbiamo preso. 10.4 per l'arresto. Sospetto in custodia. Sospetto in custodia. Sospetto in custodia.